guarda su twitter che tag sono trending il prossimo momento appunto 10 euro su io sto con la meloni o cose correlate con la meloni basi no c'è il cugumbi nel filenso elettorale meloni giocati a me in pratica ma perché solo l'inizio della ship mi cala di frame e il resto no no lo so non lo mai capito Grazie a tutti